Ancora pochissimi giorni per iscriversi al percorso di lavoro e formazione ad alta specializzazione tecnica e tecnologica Energia ed Ambiente 4.0, promosso dalla Fondazione ITS Energia ed Ambiente, che rappresenta una grande opportunità per i giovani del nostro territorio e per il loro immediato inserimento lavorativo. Con importanti aziende del territorio c'è la possibilità di avere un vero e proprio contratto di lavoro e continuare a studiare, cioè una continua formazione direttamente inseriti nel mondo del lavoro. Non perdete questa opportunità che la nostra Fondazione Energia e Ambiente continua a mettere a disposizione in tutto il territorio regionale. Credete in questo tipo di proposta perché la nostra Fondazione si trova al momento giusto nel posto giusto. Oggi nel nostro Paese, dopo la più grave crisi sanitaria, economica e sociale, tutto sarà investito in ambito energetico, in ambito digitale, in ambito ambientale. Quindi formarsi attraverso la nostra Fondazione significa accogliere le opportunità del momento. Il piano formativo e lavorativo di durata biennale è rivolto ai diplomati tra 18 e 29 anni. In possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, prevede 800 ore di formazione da svolgere presso le sedi didattiche e laboratoriali dell'ITIS e 1200 ore di formazione da realizzare presso le sedi delle aziende coinvolte. Quest'ultime avranno la possibilità di seguire da vicino il percorso formativo del giovane assunto, che in tal modo potrà sviluppare professionalità tecniche funzionali alla realtà lavorativa dove è stato inserito.